Il Consiglio Comunale dell'Aquila tornerà a riunirsi giovedì 29 marzo con inizio alle 9.30 nell'aula Tullio De Rubeis della sede di Villa Gioia. L'ordine del giorno della seduta prevede la discussione del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2018-2020 dell'istituzione Centro Servizi Anziani, il CSA, l'ente strumentale del Comune. A seguire l'Assemblea esaminerà la proposta deliberativa sulle modifiche e le integrazioni al documento unico di programmazione del Comune dell'Aquila e quello relativo al bilancio di previsione dell'ente riferito al triennio 2018-2020. La seduta in seconda convocazione è prevista per giovedì 5 aprile alle ore 9.30.